E non c'è niente da fare, la donna più è bella e ammagliatrice e più è traditrice la disgrazietta, io sono studioso di queste cose però il tradimento cambia dall'attitudine all'attitudine sì, per esempio, la donna francese la donna francese tradisce il marito e non glielo dice la donna inglese invece tradisce il marito e glielo dice la donna svedese tradisce il marito insieme al marito perché stanno tutte e tre sul canapè e la donna italiana invece è la più furba perché sapete che fa? Si mette d'accordo con l'amante, ammazza il marito poi manda in galera l'amante perché dice che è stato lui e poi se ne scappa con l'avvocato difensore che l'ha difesa tutti quanti come vedete il numero che comanda il mondo è sempre lo stesso, signori miei il numero tre